Un cordiale saluto a quanti seguono questa edizione del nostro giornale che apriamo con la cronaca giudiziaria. È iniziato infatti stamane ad Alessandria, in Corte d'Assise, il processo a carico di alcuni dirigenti dell'Ausimon e della Solvei. Numerose le accuse contestate, ma sentiamo dal Palazzo di Giustizia Emma Cavagna. Prime battute al processo iniziato stamane davanti alla Corte d'Assise e di Alessandria, preseduta da Sandra Casaccia, per avvelenamento doloso delle acque sotterranee di falda del pollo chimico di Spinetta. È l'accusa che prevede una condanna fino a 15 anni di carcere che viene contestata a otto dirigenti di oggi o del passato di Ausimont e Solvei e Solexis, chiamati anche a rispondere di omessa bonifica. Inizialmente la Corte ha preso atto di tutte le costituzioni di parte civile, che sono moltissime o più di un centinaio, perché si tratta di privati cittadini che hanno lamentato danni o malattie e di associazioni enti, vedi la CGL, il WWF, il Comune, la Provincia. Però bisogna che il magistrato decida se accettarle tutte o solo in parte. È un processo molto interessante, molto complesso, molto delicato. Gli imputati non si sono presentati, si fanno rappresentare da uno stuolo di agguerriti difensori. Sono invece presenti tutti i legali delle parte civili che da anni si battono perché cessi quello che loro definiscono un avvelenamento che ha causato danni alle culture, malattie e anche morti. protagonisti saranno solo gli alessandrini. Intanto, mentre vi parliamo, è in corso l'Assemblea dei Dipendenti del Comune di Alessandria. Ma vediamo i particolari, ne ascendiamo i particolari nel servizio di De De Vinci. A causa del dissesto l'intera città di Alessandria sta andando a rotoli. Non ci sono nemmeno i soldi per gli stipendi del Comune. Nel totale 2.500 persone non prenderanno lo stipendio alla fine di questo mese e se il Governo non ci ripenserà anche per i prossimi mesi e chissà fino a quando. Queste sono le buone ragioni per far sentire presente e unita la cittadinanza e chiedere al Governo che anche Alessandria venga inclusa nel decreto salvaenti varato per non far fallire le città italiane a rischio. Per questo motivo i tre sindacati CGL, Cisle e Will hanno organizzato un doppio appuntamento. Il primo sarà domani con una fiaccolata per le vie della città di Alessandria. Si partirà alle 20.30 da Piazza della Libertà davanti al Palazzo del Governo che è la Prefettura. Secondo appuntamento sarà venerdì della prossima settimana, il 26 ottobre con lo sciopero generale dell'intera città di Alessandria. Noi vogliamo coinvolgere tutta la città perché la tematica è talmente importante e drammatica che tutta la città deve essere coinvolta e noi abbiamo dato proprio indicazione per coinvolgere tutti quanti che non ci deve essere nessuna bandiera, nessun colore, escluso lo stessone CGL e Cisle, che sono gli organizzatori di questa manifestazione, proprio per poter far partecipare tutti, che nessuno si senta a disagio dietro qualche bandiera o meno. Noi pensiamo che il problema del dissesto del Comune di Alessandria non sia solo un problema dei dipendenti pubblici, ma sia un problema del mondo delle cooperative che da un anno e mezzo non prendono le aspettanze per i lavori fatti, un problema di tutte le imprese fornitrici che lavorano molte anche in regime di monocommittenza con il Comune di Alessandria e anche quelle si vedono costrette a mettere in cassa integrazione i loro lavoratori. Senza questi stipendi a queste 2.000 persone nel mese di ottobre tutto il sistema Alessandria ne risentirà fortemente. Abbiamo proclamato uno sciopero per il 26 del mese, uno sciopero aperto al pubblico, al privato, aperto all'intere aziende che operano sulla città di Alessandria. Occorre alzare il tiro. I cittadini di Alessandria, i lavoratori delle cooperative non hanno provocato il dissesto, ma ad oggi sono gli unici che lo stanno pagando e questo francamente riteniamo che sia inaccettabile. Tramite la Prefettura, che qui rappresenta il Governo, noi chiediamo formalmente che si faccia carico, come ad oggi ha sempre fatto, a richiedere al Governo centrale e alla Regione di avvallare tutte le richieste che ci sembrano di buon senso che sono state avanzate dall'Amministrazione Comunale. Una ingente quantità di vaccino anti-influenzale per misura precauzionale è stato bloccato dalla stessa azienda produttrice prima di essere distribuito nelle farmacie. Il ritiro del farmaco è stato confermato dal Ministero della Salute. Vediamo il servizio. Dopo il blocco di 65.000 dosi di vaccino prodotto dall'azienda Crusere per sospetta pericolosità nel giorno di avvio della campagna per la vaccinazione influenzale, il Ministero della Salute ha incaricato i carabinieri del NAS di accertare se il prodotto fosse già in circolazione nelle farmacie. Una misura presa in via precauzionale dalla stessa azienda produttrice che in una lettera ha informato il Ministero di aver bloccato la spedizione dell'anti-influenzale, si tratta dell'Inflexal V, in quanto sostiene la stessa azienda farmaceutica che una serie di indagini interne hanno riportato risultati inattesi nei test. Sospetta pericolosità. Il Ministero della Salute nella nota precisa inoltre che l'azienda produttrice dei vaccini in questione non è tra le prime che riforniscono il mercato. Altre aziende hanno assicurato la garanzia delle dosi necessarie in modo che non vi sia alcun problema per i cittadini. La campagna vaccinale appena partita aveva già registrato ritardi nelle forniture. Secondo quanto riportato da Corriere della Sera, il vaccino Inflexal V della ditta Cruce l'avrebbe registrato, secondo una lettera della stessa azienda, come dicevamo, risultati inattesi nei test. Il Ministero della Salute però tranquillizza. I vaccini sono estremamente controllati, i controlli sono ferri e quando si rileva un problema che può accadere, perché comunque si tratta di prodotti biologici, le aziende ritirano non solo i lotti sospetti ma l'intera produzione. Intanto si è appreso che i carabinieri del NAS nei controlli effettuati nella provincia di Alessandria non è stata trovata traccia del vaccino bloccato. E dopo sei anni dall'incontro di calcio tra Alessandria e Savona sono stati giudicati e condannati in tribunale ad Alessandria alcuni ultraliguri. Vediamo il servizio. Chiusa e sono passati quasi sei anni con quattro condanne e due assoluzioni o proscioglimento per prescrizione, mentre il settimo imputato ha patteggiato tempo fa l'avvertenza penale seguita agli scontri avvenuti in occasione della partita di calcio di Serie D Alessandria Savona. A patteggiare otto mesi e dieci giorni era stato Marco Gulino di Tagliolo Monferrato. Gli altri sei sono savonesi, appartenenti al gruppo degli Ultras, gli sconvolti. Francesco Bonacci è stato condannato a sette mesi. 2000 euro di multa sono stati inflitti ad Alberto per Raimon, 400 euro a Giovanni Briano, tre mesi di arresti ad Alessio Burraci, assolti o prescritti Dario Berrutti e Milo Prussiati. Per tutti divieto per tre mesi di andare allo stadio quando gioca a Savona. Le imputazioni variavano da imputato a imputato. Tutti erano stati identificati grazie a immagini fotografiche. Fra le accuse aver mostrato le natiche agli agenti di polizia che effettuavano rilievi fotografici. Detenzione di fumogeno, lancio di oggetti, così da creare pericolo per la pubblica incolumità, ingressa allo stadio con il volto coperto. La città di Ovada ha fatto da apripista per gli incontri organizzati dal Partito Democratico in vista delle primarie. Il servizio di Bruno Mattana. Una serie di incontri pubblici sul territorio alessandrino organizzati dal Partito Democratico nell'ottica del primarie. Ovada ha fatto da cavia presso il Salone Soms l'incontro con l'Onorevole Andrea Orlando, Presidente del Forum Giustizia del PD e membro della Commissione Giustizia della Camera che ha sviluppato il tema sulla via della crescita, giustizia, democrazia morale. L'Onorevole Orlando ha portato un contributo molto interessante alla discussione in questo momento particolarmente delicato per il Paese che vede oggi i cittadini turbati e indignati di fronte allo spettacolo che fornisce la politica. Abbiamo intervistato l'Onorevole Orlando sulle primarie. La nuova legge è passata in commissione, il testo base è in commissione al Senato, è stato votato, su quello si lavorerà. È un'ipotesi che ripristina una certa proporzionalità e contemporaneamente dei meccanismi che abbiamo visto non funzionano, come quello delle preferenze. abbiamo visto le preferenze che danni causano in molte realtà, perché bisogna far scegliere i parlamentari ai cittadini, ma il metodo delle preferenze è un metodo che abbiamo visto purtroppo ha delle controindicazioni molto gravi. Quindi su questo c'è una discussione aperta, vedremo. Quello che è certo è che nel frattempo noi alle elezioni ci dobbiamo preparare mettendo in campo un progetto che sia caratterizzato da una forte svolta nel futuro del Paese, che metta al centro il tema della redistribuzione del reddito, dell'eguaglianza sociale, del sostegno alle fasce più deboli, della tassazione dei grandi patrimoni, delle transazioni finanziarie. Oggi la crisi morde, è giusto che chi ha di più dia una mano a chi ha di meno e che si salvaguardi un livello di coesione sociale che è fondamentale anche per uscire dalla crisi. Se chi non arriva in fondo al mese e non viene aiutato, non gira tutta l'economia, non va nei negozi, non va all'artigianato. Insomma c'è bisogno di rimettere in moto un meccanismo che sia inceppato e questo deve essere secondo me il messaggio fondamentale che il PD deve avere e che può essere incarnato penso in modo efficace dal nostro segretario Bersani. E questo il nome del progetto è Amiamo l'Italia? Il nostro progetto è Amare l'Italia perché il problema fondamentale è oggi tornare a voler bene a questo paese dopo che per molto tempo ci sono state persone che chiedevano di voler bene a loro, cioè dei leader che chiedevano amore per sé, mentre invece oggi dovremmo provare a voler più bene al paese. Si è parlato di fisco locale e servizi sociali a Novi Ligure, ma anche di imu e di sostegno alla popolazione, i particolari nel servizio di Enrico Mariano. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra la giunta comunale di Novi Ligure e i rappresentanti locali di CGL, CISL e UIL. La riunione è stata richiesta dalle organizzazioni sindacali per fare il punto della situazione rispetto agli impegni assunti dal Comune in materia di fisco locale e servizi sociali. Per quanto riguarda l'Imu, la giunta ha sottolineato l'introduzione delle agevolazioni discusse negli incontri precedenti, approvate dal Consiglio Comunale nell'ultima seduta dedicata al riequilibrio di bilancio e ha confermato che in vista del bilancio di previsione 2013 e alla luce delle evoluzioni normative ancora in corso, saranno valutate le richieste formulate dai sindacati per l'introduzione di ulteriori sgravi, a favore di famiglie con persone disabili e con redditi molto bassi. Le organizzazioni sindacali hanno anche apprezzato la decisione di azzerare l'addizionale IRPEF perché ha un reddito lordo annuo inferiore a 15.000 euro, affiancato ad una riduzione dell'imposta per tutti i redditi medi e bassi. CGL, CISL e UIL quindi hanno manifestato soddisfazione per una manovra fiscale che colloca Novi al primo posto tra i centri zona della provincia in termini di equilibrio del prelievo e di sostegno alle famiglie. Gli incontri proseguiranno in vista del prossimo bilancio di previsione. Tra le questioni che verranno approfondite il cosiddetto ISEE istantaneo per l'accesso ai servizi comunali e l'introduzione della nuova tassa rifiuti.